ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad e k watch e k watch è un brand un micro brand italiano sono due ragazzi due orologiai di modica in sicilia che hanno un laboratorio di orologi no riparazioni orologi proprio il classico orologi e che hanno messo su questo micro brand già da qualche anno e k watch avevo già recensito orologi di e k watch in passato questo 1504 anche poi anche la versione gmt e li ho presi a cuore insomma mi stanno simpatici lavorano bene e tra le altre cose pensate che di questi due orologiai quello più basso e brutto che vedete in foto è venuto al mio watch meeting a maggio si è preso il suo aereo con lo zainetto si è pagato il suo alberghetto solamente per farmi vedere la scatola con la nuova versione del 1504 no ora a uno che è così appassionato da spendere energie tempo risorse per venire a farmi vedere l'orologio nuovo con orgoglio cosa gli vuoi dire gli voglio dire che lo aiuto gli faccio e faccio vedere l'orologio nuovo che hanno creato che hanno realizzato che sarebbe il modello 2004 del 1504 che fa anche rima perché esisteva nel 2023 era differente ora oggi voglio fare un pochino una cosa differente dal solito cioè faremo la recensione dell'orologio nuovo come se fosse la prima volta classicamente e poi alla fine durante le conclusioni finali prenderò in esame anche il modello vecchio del 2023 e farò una comparativa veloce qua con la camera in impresa diretta in modo da farvi vedere le differenze sostanziali che sono tante rispetto al precedente modello che a colpo d'occhio possono sembrare uguali ma non lo sono simili sicuramente mantiene sempre lo stesso caratter di prima ma con delle modifiche sostanziali che lo rendono migliore è spoiler migliore tra l'altro questo orologio qua adesso è in prevendita sul loro sito web a 549 euro quindi finché siete in tempo prendetelo a 549 piuttosto che aspettare che poi il prezzo di listino aumenterà di un paio di centoni poco più però conviene prenderlo sicuramente in preordine detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo bright nitronomat da 40 mm con il quadrante blu gmt alla funzione gmt con il suo belletta 28 93 all'interno un orologio semplice ma simpatico che a me piace molto in questo periodo lo sto indossando spesso me lo avrete visto spesso al polso adesso altre cose da dire non ce ne sono se non che questo orologio che di cui ho fatto la recensione è il prototipo quindi ci sono se ci sono dei punti deboli che poi vedrete alla fine perché io li trovo sempre punti deboli potrebbero essere anche imputabili al fatto che sia un prototipo però io li devo dire è alla fine lo dirò quindi rimanete guardate il video fino in fondo perché al fine c'è la comparativa ai punti deboli e punti forti dell'orologio come al solito adesso giriamo la camera diamo un'occhiata a questo nuovo 1504 e poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni personali iniziamo come di consueto prendendo in esame i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 40.9 spessore 11.5 mm ingombro trasversale al polso 46.8 e interasseanza da 20 mm misure che oserei definire ideali per ogni tipologia di polso i 41 mm rappresentano la dimensione contemporanea standard per un orologio sportivo da immersione ma è soprattutto lo spessore a sorprendere in positivo 11.5 mm sono veramente pochi specie se si considera che sono quasi equamente suddivisi tra carrure e ghiera girevole ed in effetti il lato cassa fila via sottile slanciato e sinuoso anche per conseguenza di quel particolare bisello lucido che piazzato a 45 gradi rispetto al piano verticale accompagna tutta la lunghezza dell'orologio fino a trasformarsi nel piano di chiusura delle anse stesse c'è poi un'altra smussatura che mira a raccordare il lato carrure al fondello una piccola attenzione volta ad eliminare lo spigolo vivo e a restituirci la sensazione di un profilo ancora più contenuto occorre poi enfatizzare la differente finitura presente sulla superficie della cassa la parte laterale superiore spazzolate a satinatura longitudinale e i due biselli lucidi posti a confine in linea generale si tratta di un design cassa che ritengo vincente osservandolo dall'alto si può notare come le proporzioni risultino equilibrate e come le anse riescono ad uscire dal corpo cassa in maniera correttamente dimensionata rispetto al passato una ulteriore considerazione sul design va poi fatta prendendo in esame la corona vite come si vede risulta leggermente affogata nell'acciaio della carrure questo permette di avere una silhouette in stile retro ossia priva delle spallette di protezione ma con la sicurezza di avere una difesa in più in relazione ad eventuali urti laterali così come la corona anche il fondello è saldamente avvitato alla cassa tutto ciò gli consente di avere una resistenza alla pressione di 20 bar pari ad una impermeabilità dichiarata di circa 200 metri un ottimo risultato se si considera l'esiguo spessore generale delle componenti principali la maggior parte del merito va però riconosciuta al calibro utilizzato che altri non è che il miota 90 15 il movimento premium della casa giapponese con soli 3.9 millimetri di altezza risulta essere uno dei calibri automatici più sottili sul mercato di fornitura 24 rubini 28.800 alternanze orarie e 42 ore di riserva di carica diciamo che è un meccanismo di tutto rispetto una scelta leggermente più costosa rispetto ai soliti entry level quali nh 35 e miota 8000 ma che consente di avere quel valore aggiunto in più a livello di performance e di pregio tecnico occorre poi sottolineare che ogni calibro viene regolato da k watch prima di essere incassato questo riesce a garantire una precisione di marcia che va oltre quella dichiarata dalla casa costruttrice il fatto di assemblare l'orologio all'interno del proprio laboratorio rappresenta sicuramente un plus sia in termini di regolarità di marcia che di controllo qualità generale non è visibile in quanto il fondello è in solido acciaio inciso al laser ciò che vi compare è la mappa del tragitto che cristoforo colombo fece verso le americhe appunto nel 1504 il nome del modello niente di particolarmente artistico una incisione superficiale che non presenta alcun rilievo di sorta comunque preferibile ad un eventuale fondello trasparente ma ruotiamo l'orologio e diamo uno sguardo al lato a di primo acchito incontriamo la ghiera girevole alquanto standard nella grafica se non fosse per i primi 15 minuti privi di numeri arabi e suddivisi in minuti singoli una scelta volta ad enfatizzare quel lasso di tempo che maggiormente interessa chi fa immersioni tecnicamente parlando occorre aggiungere che ruota 120 scatti e che presenta un inserto rivestito in vetro zaffero antigraffio una soluzione che conferisce anche una certa profondità visiva rispetto ad una ghiera in ceramica unico punto debole è secondo me il grip poco efficace che fa scivolare un poco le dita nel momento in cui la si intende ruotare da qui a filo ghiera parte il vetro zaffero piatto trattato con un sistema antiriflesso che mi pare alquanto efficace in quanto le riprese risultano essere prive di fastidiosi riverberi ottici lo si vede chiaramente la leggibilità di questo quadrante è uno dei suoi punti forti sfondo nero ed indici triangolari super luminova la copiata perfetta così come si può facilmente notare l'equilibrio delle forme laddove ogni elemento risulta speculare e simmetrico i triangoli che puntano tutti verso il centro e il datario posto ad ore 6 conferiscono un armonioso bilanciamento a tutto l'insieme tra l'altro è sempre difficile realizzare un diver nero dalle forme standard che non vada a rimembrare qualcosa di già visto ma in questo caso la scelta del gioco sfere ad aga e la forma degli indici riesce a conferirgli anche una certa personalità specie per quello ad ore 12 che essendo doppiato risulta quanto originale volendo ci puoi addentrare maggiormente nei particolari si può notare un piccolo dettaglio che è il caso di rimarcare la sfera dei secondi con il suo lollipop e le estremità dipinta in celeste lo stesso colore utilizzato per la scritta 1504 occorre poi aprire un paragrafo a riguardo della realizzazione del quadrante stesso viene smaltato e poi coto ad una temperatura di 850 gradi per sei ore dopodiché vengono applicati gli indici in ottone riempiti con superluminova bg w9 stesso pigmento luminescente utilizzato per l'inserto ghiera tranne per il triangolo ad ore 12 che è in superluminova c3 lo si nuota dal colore differente che tra l'altro facilita la comprensione del punto di riferimento come si vede tutti gli elementi del quadrante e della ghiera rispondono positivamente nulla da eccepire su questo fronte non rimane che parlare del bracciale ma prima occorre segnalare che in fase di prevendita si viene omaggiati di un cintorino waffel in silicone si può scegliere tra vari colori e questo nero ben si addice al modello in questione ottima qualità e morbidezza tra l'altro è anche marchiato ek watch e presenta le spring bars a sgancio rapido un'ottima alternativa estiva al classico bracciale in acciaio quest'ultimo presenta un design classico che vede ogni maglia composta da tre segmenti identici nelle dimensioni niente di particolarmente fantasioso ma sicuramente di eccellente qualità completamente spazzolato e questo farà la felicità dei più vede i suoi punti forti nel sistema di fissaggio maglie che prevede i perni a vite e nella clasp che presenta un sistema di regolazione fine ingegnerizzato basta premere il pulsante per avere una escursione di ben 8 mm e trovare la corretta misura al polso per il resto abbiamo solamente punti positivi finali in acciaio pieno cerniera chiusura ben dimensionata e finiture della clasp in linea con quelle dell'orologio possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali iniziamo subito con i punti deboli vogliamo iniziare con i punti deboli e iniziamo con i punti deboli cosa ho riscontrato un euro detto no la ghiera che a ruotarla scivola leggermente ora per esempio non mi sta scivolando sto facendo la figura barbina però in certe situazioni ancora per esempio mi scivola un pochino rigida occorre spingere insomma è duretta però poco male un secondo punto debole è rappresentato dalla corona di carica nel senso che quando si avvita si imbocca facilmente no però poi dopo pone molta resistenza a volte guardo di come sono arrivato fino in fondo anno manca ancora mezzo giro e tocca fare un po di forza per chiuderla completamente quindi prestare attenzione a quando si chiude la corona di carica a vite potrebbe essere un difetto di questo orologio qua del prototipo oppure lascio a voi di capirlo perché io non lo posso sapere poi un altro fastidiosissimo per modo di dire punto debole è il bracciale che vedete qua per certe situazioni diciamo particolari quando c'è una congiunzione astrale che porta a questo disguido ecco si accavallano le maglie del bracciale e rimangono incastrate in questo modo quindi occorre poi trovare il sistema quell'angolazione particolare per la quale poi si riesce a sbloccare il tutto un punto debole forte un punto debole inutile però a volte il bracciale si accavalla le maglie si accavallano e te lo ritrovi un pochino piegatino quindi devi sgrupparlo come si dice in italiano poi detto questo va bene questi sono i punti deboli ghiera duretta corona duretta bracciale che si ingruppa i punti forti poi ragazzi sono veramente tantissimi a cominciare dal calibro che il mio 8 9 mila un orologio sopra 500 euro appena con il mio 8 9 mila è un ottimo risultato visti i prezzi che ci sono in giro qualità eccellente di tutto cioè bracciale cerniera regolazione fine qua la clasp ingegnerizzata ottima ghiera in vetro zaffero vetro zaffero con antiriflesso tutto perfetto finiture di primo ordine quindi da quel punto di vista lì non ci si può dire niente ora passiamo a vedere le differenze reali tra questo modello del 2024 e quello del 2023 ora la prima cosa che si nota è che il modello del 2023 era 40 mm mentre questo qua è 41 mm ma perché è stato aumentato di un millimetro che poca roba semplicemente perché è stata ridisegnata completamente la cassa e la ghiera praticamente l'orologio pur essendo simile è differente completamente lo spessore passa da 13.7 mm del vecchio agli 11.5 di questo qua nuovo significa che la diminuzione è veramente tanta hanno cercato di diminuire lo spessore per proporzionare maggiormente tutti gli aspetti dell'orologio hanno deciso di allargare di un millimetro il diametro cassa e soprattutto di aumentare anche la superficie delle anse che esce dal dalla proiezione dell'orologio infatti se guardate il vecchio modello guardando dall'alto risulta più tozzo più tozzo rispetto a questo che ha le anse molto più avvolte armoniose con quel bisello che è di maggiore dimensione insomma lo si vede anche frontalmente che le anse andavano a chiudersi subito sul bracciale rendendo piccole tozzo l'orologio mentre in questo caso vanno ad allargarsi con una superficie maggiore secondo me è una mossa vincente poi guardando dall'alto cosa si nota anche che la ghiera guadagna in spessore nel modello nuovo è più larga quindi anche i numeri sono più grandi meglio leggibili così come sul quadrante stesso gli indici hanno più superficie hanno ingrandito gli indici praticamente su quello vecchio erano piccoli e il quadrante rimaneva leggermente vuoto lo avevo fatto notare anche io su questo nuovo gli indici sono più grandi e riempiono meglio il quadrante così come più grandi sono le scritte e k watch è aumentata in dimensione un altro particolare da tenere in considerazione che invece il lollipop è diminuito in dimensione è più fine anche diciamo anche con la punta colorata ma il lollipop è proprio più piccolo più piccolo di diametro quindi è più fine più elegante e un altro modifica rispetto al vecchio modello è le sfere che sono completamente in superluminova nel vecchio modello vedete che la base è metallica quindi la parte luminescente è solamente da metà verso l'estremità mentre in questo modello nuovo è tutta luminescente quindi ne guadagna la leggibilità al buio poi continuiamo con le modifiche viste ecco la corona di carica sul precedente modello la corona di carica era di diametro inferiore ma più sporgente in questa è di diametro maggiore ma meno sporgente è molto più armoniosa rispetto a quella vecchia e c'è da dire che va anche ad incassarsi all'interno del corpo cassano affogata nell'acciaio mentre quella vecchia era completamente a sbalzo più più a rischio urti cambia completamente l'architettura del bracciale va a perdere tutti quei biselli lucidi che sono anche carini sul modello vecchio perché ogni singola maglia del modello vecchio aveva dei biselli lucidi qui si è deciso di farlo tutto spazzolato completamente spazzolato e a spigolo quasi vivo senza più quel quel lucido che c'era prima una scelta che molti apprezzeranno perché completamente opaco a me piaceva anche il vecchio con quello con quello stile lì poi dopo la clasp è completamente differente migliorata completamente la clasp perché su quello vecchio abbiamo i forellini per regolare la lunghezza su quello nuovo abbiamo la regolazione rapida ingegnerizzata che è tutto dire no veramente comoda una roba completamente un upgrade totale diciamo quindi in sostanza tutte migliorie tranne che ad esempio ecco questo cosa cambia da il modello vecchio aveva 300 metri di impermeabilità e quello nuovo ne ha 200 è un downgrade tecnico c'è poco da dire da 300 200 è un downgrade e però non serve a niente cioè a noi esseri umani normali cosa ci cambia 300 metri 200 metri di impermeabilità nulla nulla se poi abbiamo un orologio che ragazzi è veramente rispetto a quello vecchio adesso che l'abbiamo visto è veramente più sinuoso più armonioso più proporzionato un orologio sottile che si allunga che mostra maggiormente la forma della cassa rispetto al vecchio con la corona più proporzionata un bracciale satinato è un quadrante più pieno rispetto a quello vecchio insomma completamente differente il massimo proprio guardarli guardarli di fianco guardarli di fianco si vede quanto è tozzo quello vecchio e quanto è snello quello nuovo e c'è poco da dire io ragazzi vedo tutti i punti negativi ve li ho detti non sia mai i punti positivi ve li ho detti le migliorie tra il vecchio e il nuovo sono evidenti chiaramente evidenti agli occhi di chiunque e io vi dico è lì a 549 euro in prevendita un orologino con il miota 9.200 metri di impermeabilità fatto da dei ragazzi siciliani che si meritano il meglio di questo mondo perché io dico sempre di guardare l'azienda che c'è dietro non ha un orologio comprare un orologio cinese fatto in serie per copiare gli altri chi c'è dietro c'è qualcuno che vuole fare i soldi e basta qua ci sono dei ragazzi che ci mettono passione c'è sto Gabriele qua che si è preso l'aereo è venuto da me a farmi vedere l'orologio cosa ne pensi l'abbiamo modificato migliorato qua questo 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 sono queste le aziende che vanno premiate questi ragazzi che si impegnano per cercare di costruire il loro sogno il loro orologio poi vedremo se ne faranno altri hanno intenzione di fare anche altri modelli mi ha detto anche dress watch vedremo gli auguro tutto il meglio però tutto il meglio parte poi da da riuscire poi a vendere gli orologi come questo qua che è in prevendita quindi aiutiamoli mettiamoci una mano sulla coscienza ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto è l'orologio ve l'ho fatto vedere io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto tutto il contesto e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti